allora vi piace questo progetto e niente il calcio da e il calcio toglie signori il calcio da e calcio toglie pareggio giusto mi sento di dire nel primo tempo ci hanno preso a pallate nel secondo si l'abbiamo raddrizzata loro erano stanchi ma noi non è che chissà cosa si sia creato anzi l'hanno sfiorato loro per due volte il gol della vittoria eh sì signori eh sì eh sì bisogna che ci si metta una cosa in testa questa squadra così com'è così com'è adesso questa squadra è già tanto se entra nelle prime quattro così com'è questa squadra è già tanto se arriva tra le prime quattro ve lo dico e così a me non piace non mi illudevo l'anno scorso quando si era appunto appunto con l'inter per mezza stagione figuriamoci se mi illudo adesso così com'è signori questa squadra farebbe sarebbe tanto già molto arrivare tra le prime quattro stop perché oggi miei cari si sono visti tutti i limiti strutturali di questa squadra non mi sto a ripetere sui ricambi sì è facile prendersela con Danilo Danilo non può più circolare Danilo non può circolare e Calulo purtroppo va preservato Calulo è uno che si è fatto un crociato e e va preservato perché poi questi giocatori sono soggetti a infortuni muscolari e tutto il resto quindi non chiedetevi perché ha giocato Danilo perché questo c'è fatemi capire vi è piaciuto quest'estate quando hanno mandato via Rugani dopo avergli rinnovato il contratto si via aria fresca aria fresca un par de coglioni e adesso non ti serviva Rugani stasera ma a parte è stata una partita che tu non hai perso per le caratteristiche del Parma il Parma dalla cintola in su una gran bella squadra oh raga ma che bel giocatore che Bernabè ma anziché ma guarda anziché andare a spendere quello che si è speso poi non sappiamo che i cazzi con l'Aston Villa non li sappiamo i cazzi e i mazzi con l'Aston Villa non li sappiamo ma non era meglio prendere Bernabè e spendere quei soldi per una punta uno come Bernabè raga mi è piaciuto un casino il migliore del Parma il migliore dei due rumeni io lo sapevo ve lo dico dall'anno scorso che male mi hai la sono due ali vecchio stampo che ti mettono in crisi scherzata non lo ho poi Alm qui ci ha messo in crisi eh sì signori eh sì eh sì signori questa è una squadra piena zeppa di problemi questa è una squadra che non può giocare con una sola punta anche perché c'hai solo lui praticamente questa è una squadra che non puoi giocare non puoi giocare con una sola punta soprattutto se questa punta usa praticamente un solo piede perché tu devi avere la possibilità di tagliare di avere l'istinto di tagliare sia su un palo che sull'altro e lì si Vlaovic ha mangiato gli ennesimo gol benissimo tutto quello che volete però ragazzi eh sono le lacune nell'organico sono le lacune nell'organico il vero problema di questa squadra sono le lacune nell'organico grosse lacune nell'organico è un giorno fra tanti anni magari magari con l'ennesimo libro di Moncalvo sapremo cosa è successo quest'estate l'estate scorsa sapremo cosa è successo magari grazie all'ennesimo libro di Moncalvo eh ragazzi questa è una squadra con grossi limiti questa è una squadra dove passa per top player un giocatore normalissimo come Con Seisau è stato nettamente il migliore della Juventus anche oggi eh adesso però vi faccio una domanda secondo voi Con Seisau nell'Inter, nel Napoli giocherebbe titolare? vi dirò di più anche nel Milan secondo voi Con Seisau giocherebbe titolare? attendo risposte nei commenti ma non sto sminuendo il ragazzo il ragazzo vi sembra chissà chi perché il livello della squadra è molto basso è molto basso e anche Copmainers si rientra dall'infortunio tutto quello che volete ragazzi però porca puttana è lento come un bradipo è porca puttana quanto è lento magari non è ancora in condizione aspettiamo pure lui tanto tanto oramai si è messo in bocca che dobbiamo aspettare nel nome del progetto se a salvarci il culo devono essere McKenna e Weha McKenna e Weha cioè si Hildiz mi è piaciuto quando è entrato che poi è l'unico che ha approvato la conclusione Hildiz se vogliamo e poi una roba non si tira mai da fuori aria sembra ci sia il divieto perché non tiriamo da fuori aria perché dobbiamo entrare pallone e tutto in porta quando negli ultimi minuti è normale che la squadra che si difende fa densità in area di rigore come no vabbè calcio moderno questa è la miglior risposta quei babbei che così vogliono essere chiamati che fino a un anno fa dicevano eh ma il bel gioco il bel gioco non c'è gioco non c'è gioco mi annoio mi vergogno il non calcio ma va l'anticalcio ma lo vedete questa squadra limiti tecnici pazzeschi lo vedete o no? anche Turam ha provato a fare qualcosa ma credo già di aver capito che tipo di giocatore è Turam è uno che per rendere bene deve stare bene ma appena si fa male per ripigliarsi ci vuole almeno un mese due mesi anche Cambiaso si è fatto in quattro ma anche lui nel primo tempo molto impreciso ve l'avevo detto che col Parma non sarebbe stata una passeggiata ve l'avevo detto o no? ma perché conosco i miei polli e modestamente ho seguito il Parma l'anno scorso in B quante volte vi ho parlato di Mannemi Aira sulle fasce quante volte ve ne ho parlato quante volte vi ho parlato di Bernabé quante volte anche Bonni questi pronti via ci fanno gol hanno capito che questa è una squadra che va aggredita che va appressata perché per impedirgli il possesso palla perché non è una squadra tecnicamente eccelsa questo è signori io francamente ho poco altro da dire non mi sento di gettare la croce addosso al mister da Kodologna mafe e zucca da quel legno facciamo gli zoccoli quello è il materiale che abbiamo non può inventarsi Pele o Maradona levatevi dal cervello questa storia che gli allenatori migliorano i calciatori l'allenatore ti può insegnare il movimento ti può insegnare la diagonale ti può insegnare il tempo del pressing i movimenti quello ti può insegnare l'allenatore ma se hai due piedi quadrati Gattuso non diventerà mai e poi mai Maradona anche allenato da Guardiola Gattuso non diventerà mai e poi mai Maradona e sto citando due grandissimi per motivi diversi signori oggi oggi spegnete tutte le illusioni spegnete tutte le illusioni perché questa questa squadra così com'è è già tanto si arriva a quarta iscrivetevi al canale grazie 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 grazie